Musica Sabato 4 gennaio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Partiamo con la politica, bilancio positivo dell'attività parlamentare svolta nel 2013 per il deputato Danilo Leva. Il governo ha riconosciuto le nostre ragioni ma al Molise serve una classe politica regionale, credibile e autorevole, ha detto il segretario del PD. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Agli inizi del nuovo anno il deputato del PD Danilo Leva ha sottolineato i punti salienti della sua attività politica e istituzionale svolta nel corso del 2013. Nonostante il perdurare della crisi economica, le ragioni del Molise sono state tutelate dal governo a partire dalla ricostruzione post-terremoto con lo sblocco di 20 milioni di euro dal patto di stabilità grazie all'impegno costante della delegazione parlamentare, ha detto il segretario del PD. Siamo riusciti a mantenere gli impegni sul collegamento viario Termoli-San Vittore con uno sforzo non indifferente. Su Invitalia siamo riusciti a far sì che il Molise rientrasse con 80 milioni di euro di finanziamento per l'autoimpresa giovanile. Un impegno anche a favore delle aree interne, dei siti archeologici del Molise, i tavoli di concertazione sull'ITR con il governo pronto a stanziare risorse aggiuntive anche per un territorio di crisi che va da Boiano fino ad Isernia. Abbiamo provato a far uscire il Molise fuori dai confini regionali e a portarlo all'attenzione del governo centrale. Il Molise da solo non ce la farà ad uscire dalla crisi. C'è bisogno di uno sforzo anche della classe dirigente monisana in termini di credibilità e di autorevolezza nei confronti non solo del governo centrale ma nei confronti anche dell'Italia. Lei ha ricoperto anche il prestigioso incarico di responsabile della giustizia per il PD. È stata un'esperienza positiva, anche questa ha avuto dei riscontri, delle ricadute importanti per questa regione anche in termini di punto di riferimento. Abbiamo determinato in maniera decisa la linea del PD sulla decadenza di Berlusconi la battaglia che abbiamo fatto per un sistema carcerario più umano per la riforma della custodia cautelare, per l'abolizione dell'ergastolo. Io sono primo firmatario nonché relatore di una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati che andrà in discussione proprio nei prossimi giorni in Commissione di Giustizia alla Camera. Una cosa ci terrei a dire all'inizio di questo nuovo anno. Si può arrivare dal Molise, che è una piccola regione, mantenendo i piedi per terra e facendo bene il proprio lavoro. Questo è un messaggio soprattutto alle nuove generazioni, di credere molto nelle cose che uno fa impegnarsi a fondo e però restare attaccato al nostro territorio. Il prefetto di Sernia, Piritore, ha avviato le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Macchia Godena. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle dimissioni presentate da cinque consiglieri comunali su nove. Da ieri si è insediato il commissario nominato da Piritore. Si tratta di Antonio Incollingo, vice prefetto aggiunto della stessa prefettura. Festa dell'Epifania all'insegna della solidarietà, cena a favore delle famiglie bisognose a Campobasso e raccolta beni per i detenuti del carcere di Larino a Termoli. Il 6 gennaio poi musei e siti archeologici aperti in tutta la regione su disposizione del Ministero per i beni culturali. Sentiamo. Una festa dell'Epifania all'insegna della solidarietà per ricordare il valore del dono dei Maggi a Gesù appena nato, quella organizzata dalla parrocchia Santimotio a Termoli in collaborazione con la Ictus Onlus. Tutti i fedeli che si recheranno a messa il 6 gennaio alle 8.30, alle 11, alle 18, potranno portare prodotti per l'igiene personale, biancheria intima e vestiario, ovviamente non usati, da destinare ai detenuti del carcere di Larino. I doni potranno essere depositati davanti all'altare durante l'offertorio. Nella parrocchia di San Giovanni Battista a Campobasso invece si terrà domani sera la tradizionale cena con le famiglie bisognose della città, quest'anno più numerose degli altri anni. Quest'anno l'evento si terrà in una tenda messa a disposizione dalla Protezione Civile Regionale e montata davanti al convento, invece che all'interno della struttura religiosa come in passato. Un modo per aggregare, stare tutti insieme nella gioia e dimenticare i problemi almeno per una sera, spiegano i frati di San Giovanni Battista. La cena sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica alle 18 e 30. Ma la giornata dell'Epifania offrirà anche occasioni di cultura. Il Ministero dei Beni e Attività Culturali ha deciso l'apertura straordinaria di musei, siti archeologici e castelli. Nel Molise la sovrintendenza ha deciso l'apertura straordinaria del Museo Sannitico di Campobasso, mattina e pomeriggio, del Museo di Altilia dalle 8 alle 14 e dalle 14 e 30 alle 17. L'Anfiteatro e Parco archeologico di Larino dalle 8 alle 14 e quella di Pietra Abbondante dalle 10 alle 15 e 30. Si potrà poi visitare il Museo del Paleolitico di Isernia dalle 9 alle 19, il Castello Pandone dalle 8 alle 19 e il Museo archeologico di Santa Chiara, sempre a Benafro nel pomeriggio. E infine resterà aperto anche il Castello di Gambatesa dalle 8 alle 19. Lasciamo l'informazione e passiamo ad islaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Marco Presutti in regia vediamo l'apertura del giornale del Molise.it, ospedale di Benafro, parla sorbo. Il piano Asrem è una truffa pronti alle barricate. Sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, durissima presa di posizione del sindaco di Benafro, Antonio Sorbo, in un suo post su Facebook, bolla il piano redatto dall'Asrem come una truffa e si dice pronto alle barricate. Il piano aziendale dell'Asrem che azzera gli ospedali di Benafro e Larino è una truffa. Continuiamo, dimensionamento degli ospedali. Cavaliere, la maggioranza non ha difeso gli interessi dei molisani. Nagni poi replica l'ATM e la regione in regola. Presto pagheremo le spettanze. Il comitato pro Santissimo Rosario tranquilli. L'ospedale di Benafro non chiude. Altre notizie dalla regione. Furti a diserni e Benafro sventati dai carabinieri. Fioccano le denunce. Rotatori al Cardarelli. Icola Giovanni si rivolge al prefetto. Teatro Savoia. Tempo scaduto. La storica struttura rischia di scomparire per mancanza di fondi. Protesta al casello della 14. Manifestanti in corteo sulla statale. Poi aumenti sui pedaggi in autostrada. Al casello di Termoli. Gli autocombilisti si dicono rassegnati. Trasporto pubblico. L'ATM. Vantiamo un credito di 4 milioni. Ma la regione non paga. Invece abbiamo visto la risposta di Nagni. Riordino sanitario. Risponde frattura. Documenti disponibili a tutti. Peccato che ad oggi non c'è traccia del provvedimento. Continuiamo con la stampa regionale. Primo piano molise. L'apertura gamma. 16 mesi per farla ripartire. Fiduciose aziende regione. Ma RSU e maestranze sono pronte alle barricate. Una prima stima prevede 69 esuberi. La ristrutturazione riguarderà tutti i reparti e costerà 25 milioni. Tra dieci giorni la risposta dei sindacati sul piano di rilancio. La riorganizzazione della sanità. Il comitato pro Santissimo Rosario avverte un altro piano sanitario regionale. Altrimenti tutti in piazza. Scarabèo tuona. Solo scelte condivise. Venti di guerra pure all'ospedale Vietri. E a Termoli fuga dall'Udc. Cerretta e Farina lasciano velardi. Sottoscritto un documento. Contestati i vertici locali. Vediamo in alto. Pettoranello ITR Bianchi chiede la cassa integrazione straordinaria per un anno. Dipendenti al limite. Situazione inquietante. Termoli manifestanti in corteo sulla statale 87 contro la casta nazionale. L'ultimatum via entro il 9 gennaio. Sono abusivi e corrotti. Campobasso rotonde del Cardarelli. Obrobri da rifare. Con la Giovanni. Chi ha sbagliato deve pagare. Vediamo ancora la ripartenza degli azzurri. Cercasi il nuovo coordinatore di Forza Italia. Spuntano Tiberio e Martelli. Ma il testimone potrebbe passare anche ad una donna. E si fa il nome di Anna Elsa Tartaglione. La decisione finale spetta a Roma. In accordo con i Big Iorio e Patricello. Notizie dall'Abruzzo. Vasto alberghiero e liceo sportivo in città. Il governo Chiodi dice no. Si accende la polemica soprattutto nel centro-destra. Lo sport serie D. Isernia il nuovo allenatore Califano. Termoli firma il Bebi. Kotvika. Sport e solidarietà. Torneo a scopo benefico. Domani alla palestra Sturzo di Campobasso. Vediamo ora l'apertura del quotidiano. Ospedali. Clima teso sul riordino. A Benafro, Sorbo e Scarabeo guidano la protesta. Difenderemo il presidio. A Campobasso il Cardarelli verrà svuotato. Sette UOC attribuite all'ex cattolica. A casa anche 38 dirigenti. Il Basso Molise paga un caro prezzo. Il Vietri sarà casa della salute. L'assessore Nagni avvisa l'ATM. Replica le accuse. Noi siamo in regola ma mancano le vostre carte. Poi per la cronaca. Zingara morta. Grave incidente stradale. Sul tratto maledetto. Feriti due molisani. Albivio di Fragneto Monforte. Pauroso scontro tra auto. Commercio. Oggi partono i saldi. La corsa all'affare più conveniente. A Campobasso a Natale al coperto. È la musica l'ospite d'onore. Vediamo ora in alto. GAM. Non piace il piano di rilancio. Che punta sulle cooperative. Azienda chiusa per la ristrutturazione. 70 ai suberi. E la cassa integrazione è agli sgoccioli. Movimento 9 dicembre. La rabbia si sposta sulla statale 87. Vediamo ora lo sport. Lupi. Stadio. Tagliata l'erba del campo. Ora la convenzione per la Serie D. Califano allenatore dell'Isternia. Manca solo la firma. Cinque arrivi per il Boiano. Il Termoli ingaggia Cotvica. Vediamo ora il tempo. Mannaglia sugli ospedali. Venafro guida la rivolta. La regione vuole declassare il vietre di Larino e il Santissimo Rosario. Segnali d'apertura dall'ASREM. Cittadini pronti alle barricate contro il piano di riassetto della sanità. Che taglierà 300 posti letto. La GAM verso la riduzione della personale. Poi dimissioni a Raffica. Arriva il commissario a Macchia Godena. Cinque anni per decidere chi raccoglie i rifiuti. Il TAR dà ragione alla provincia e chiude un contenzioso iniziato nel 2008. Il sanno quotidiano. Polemiche sui posti letto al Santissimo Rosario. Ieri mattina il sopralluogo del direttore generale ASREM Percopo. Che ha disposto l'inizio dei lavori urgenti. Il sindaco di Venafro contro la bozza del piano sanitario. E dice è una truffa. Confido nel senso di responsabilità di chi ci amministra. E poi l'incidente auto contro mano schianto sulla zingara morta. Due i feriti. Passiamo ora ai quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera ha letta intesa di maggioranza. Lo spread sotto i 200 punti non accadeva da luglio 2011. L'intervento del Premier sulle riforme, Nodi Alfano, al segretario del PD sulle unioni civili. Il Papa chiede alla Chiesa di formare il cuore per non creare mostri. L'allarme sulla tratta delle novizie. Una tempesta copre l'America di neve. Almeno 13 morti. Migliaia di voli cancellati. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Alfano, un muretto anti-Renzi. Altolà da parte del Vice Premier al segretario del PD su unioni civili e immigrazione. Nuove regole del voto. Si parte con il modello spagnolo che non dispiace al Cavaliere. Le proposte dell'ex rottamatore dividono la maggioranza. Dialogo sulla legge elettorale e divisioni più nette sugli altri temi. Passiamo ora all'apertura del mattino. Terra dei fuochi. Il colle in campo. Napolitano, vicino alle famiglie con morti di tumore, risarcire il danno subito. Il capo dello Stato scrive a Don Patriciello. Vigilerò sulle misure promesse incontro nei prossimi giorni. Poi Giuliano, la rivolta contro la Tares nella città abbandonata tra i rifiuti. L'apertura del giornale. Schiavi delle banche e servi dei cinesi. Debito pubblico sempre più in mano agli istituti. Mercato sempre più in mano agli stranieri senza scrupoli. Spread giù. Il governo gongola per meriti che non ha. Ecco perché. Andiamo male, così commenta il giornale. Nuove assunzioni a palazzo per risparmiare spendono l'autority anti-sprechi in Parlamento. Ci costerà 6 milioni di euro. Passiamo al tempo. Il bidone di Marino. Questo è il titolo di apertura. Sotto casa del sindaco. Strade e cassonetti puliti. E Roma invece affoga nei rifiuti. E i centri scoppiano. Vediamo due immagini a confronto. Sui matrimoni gay il governo si separa. Confronto tra lo scrittore Busi e il deputato Giovanardi. Passiamo all'apertura del manifesto. che titola scoppiati di fatto Alfano Puntepiedi e chiude alle richieste di Renzi. Niente, unioni civili e la bossa di fini non si tocca. Ma il PD insiste. Avanti in Parlamento anche con un'altra maggioranza. Sulle coppie Omo. Arrivano aperture da Forza Italia. E Letta incrocia le dita. Troveremo una soluzione. Poi Iraq. La guerra è infinita. Maliki Obama. Aiutaci. Vediamo l'apertura ora di Libero. Porta borse assunti come Colf. La risposta dei parlamentari siciliani al sermone anticasta del Presidente. Un trucco con il quale hanno girato una sforbiciata di 3.000 euro mensili ai loro stipendi. E ci stanno pure i grillini. Unione incivile. Alfano risponde duro a Renzi sulle coppie di fatto. Ma come fanno a stare nella stessa maggioranza? Si chiede Libero. Vediamo ora l'apertura di avvenire. Morire per la fede e dire no ai narcos. Dal Papa l'invito. Testimoni per svegliare il mondo. Sono stati 22 gli operatori pastorali uccisi nel 2013. Messa di Francesco con i Gesuiti. Diffuso anche il colloquio con i superiori generali. Napolitano il mio impegno per la terra dei fuochi. Il Presidente scrive a Don Patriciello commosso dal dolore dei bambini malati. E questo era avvenire. Passiamo all'unità PD Alfano. La sfida dei diritti. Il Vice Premier frena sulle unioni civili e sull'immigrazione. Prima vengono famiglia e sicurezza. Renzi tira dritto. Cercheremo la maggioranza in Parlamento. E il Premier risponde. Troveremo la soluzione. Augusta. Il porto anti-armi chimiche. Il sito siciliano è il favorito per trasbordare parte dell'arsenale di Assad. Ma il sistema di idrolisi che distruggerà le sostanze più pericolose finora è stato provato solo a terra. Poi spread sotto i 200. Letta. La stabilità paga. Passiamo alle notizie economiche. Il sole 24 ore. Lo spread torna sotto quota 200. Letta. La direzione giusta. Ora meno tasse sul lavoro. Saccomanni. Risorse per la crescita. I BTP italiani chiudono a 197 punti con rendimenti al 3,91%. I bonus spagnoli a 192. Bene. Le borse Milano a più 0,97%. Le vie della ripresa a fondi dell'Unione Europea 2014-2020. Primo sì di Bruxelles. Fiat Chrysler Record in America. Modis conferma il rating a B1 dopo l'accordo per la fusione vendita negli Stati Uniti. Salite del 9% nel 2013. Il gruppo rimane leader in Brasile. E poi class action contro Facebook viola la privacy, social network e la protezione dei dati. Passiamo ora alla Repubblica. Unioni civili ed è subito scontro. Così titola la Repubblica. Alfano dice no a Renzi. Il PD andiamo avanti anche senza di lui. La maggioranza si spacca sulla proposta del leader democratico, il Premier. La sua iniziativa è importante. Troveremo un accordo. Tempesta di neve sugli Stati Uniti. Cancellati 5.000 voli. Gelo a New York. Temperature a meno 25 gradi. 11 le vittime. Lo spread dei record scende sotto quota 200. Letta. Il paese riparte. I rendimenti tornano ai minimi di tre anni fa. La stampa spread sotto 200. Letta. Più soldi per la crescita. Stato e aziende. Chi ci guadagna non accadeva da luglio di tre anni fa. Neve e gelo. Trappola a New York. 11 vittime. Temperature fino a meno 25 gradi. Ma il 2013 è stato l'anno più caldo. Unioni civili. No di Alfano a Renzi. Il vicepremiere al segretario. Prima famiglia e sicurezza. La replica del PD. Cercheremo i voti in aula. L'India. I Gandhi. Dinastia in crisi. Verso il voto. L'addio di Singh. La gazzetta dello sport. Juve e Roma. Il meglio che c'è da Pogba a Pjanic. Davide alla Strutman. 500 milioni in campo nella sfida Scudetto. Vigilia al veleno. Totti bravi con l'aiutino. Chiellini. Noi i più forti. Il popolo di Schumi prega a Grenoble. Telecamera sul casco è un mistero. I ferraristi e il loro idolo. Compleanno di speranza. Novità nell'inchiesta. Continuiamo col calcio. Napoli. Gonalons dice sì. Guerriero. Elefante perfetto per Rafa. All'Ione. 13 milioni. E uno dei colpi più cari dell'era. De Laurentiis. Il francese. Ottimo nell'impostare il gioco. Milan. Oggi arriva a Honda. I giapponesi corrono a Milano. Poi mercato. Guarin. Chelsea. Sì è gelo. Per prendere la mella. L'Inter perderà Ranocchia. E poi il caos. Lazio Petrovic. Che stress. Ma ora lottito. Affretta ed offre una buon'uscita. E questa era la gazzetta dello sport. Con cui si conclude il nostro appuntamento. Con la rassegna stampa. L'informazione di Telemolise torna alle 14. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.